stradale che collega Mortara con Vercelli. Già dall'anno scorso abbiamo segnalato in provincia un peggioramento per un cedimento di un pilone nel torrente Agonia. Quindi si nota proprio questo peggioramento perché si è formata una specie di dosso sul ponte e quando uno passa in macchina si sente proprio come un salto e si è formata questa crepa che attraversa tutto il ponte in orizzontale. È preoccupante però devo dire che ho segnalato la cosa alla provincia di Pavia, al presidente Vittorio Poma. Il progetto di per sé c'è già per la sistemazione di questo ponte. L'anno scorso non si poteva utilizzare ancora quei soldi per la sistemazione e il ponte è costantemente monitorato. Quindi devo dire che anche la provincia non è sempre da criticare perché comunque lo tiene sotto controllo. dal punto di vista della sicurezza da maggio però è stata fatta un'ordinanza che i mezzi pesanti superiori alle 3,5 tonnellate non possono più passare. grazie a tutti.